Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la regina dei rally, la Lancia Stratos HF, Livrea all'Italia, uscita numero 64, il modello in scala 1 a 8, l'edizione Centauria e la macchina tra i tanti titoli vinti ha vinto il rally di Monte Carlo nel 1976 con il pilota Sandro Munari e il suo copilota navigatore Silvio Maiga. Andiamo a dare subito un'occhiata all'interno del fascicolo, il montaggio è molto semplice, ci sono dei metodi che vi possono semplificare di più il lavoro, però tutti ce la possono fare, bisogna solo fare attenzione ecco a non creare danni, poi andiamo a vederlo, comunque a questi due pezzettini di plastica qui che sono gli attacchi. Non dimenticatevi che questo anellino è in plastica, tutto è in plastica ma questo è ancora più fragile. Intanto mentre vi faccio vedere le immagini dell'interno del fascicolo, ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi, con tutto il mio cuore, sinceramente ripeto sempre le stesse cose, non perché è un'abitudine ma non riesco a trovare altre parole per dirvelo, meglio di così non lo so e sicuramente non riesco a trasmettervi quello che sento in realtà dentro come emozione perché sto arrivando a un milione di visualizzazioni totali e chi l'avrebbe mai detto? Certo non io e questo è solo grazie a voi e alle persone che mi guardano ma non si sono ancora iscritte al canale, sempre che ne abbiano piacere ragazzi vi dico questo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato, date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Qua intanto vediamo il risultato finale, infine se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello mi contatti privatamente, grazie. Questa macchina come sapete la sto costruendo o meglio la sto montando anche io per me stesso ma me l'ha commissionata anche Giovanni insieme all'Audi 4, vincitrice del rally di Monte Carlo del 1984 col pilota Walter Rohl e il suo copilota navigatore Christian. Ed ecco qua abbiamo visto le due uniche mezze pagine dedicate a questa icona automobilistica sportiva. Bene, io vi dico come ho proceduto per questo montaggio, guardate, troviamo le cinture di sicurezza con queste, gli attacchi a ganci e sganci rapidi e anche questi qua sono gli attacchi, quelli che vanno poi messi ai laterali dell'abitacolo. Due serie di viti, MP, RP, tutte e due da avvitare esclusivamente nella plastica, non usate nessun tipo di lubrificante. Vi serviranno due cacciaviti, tutte e due a stella a croce come volete chiamarli, uno con la punta più piccola per questa vite qui, che va bene anche per questa, però volendo si può usare anche un cacciavite con la punta più grande per la vite RP. Allora, attenzione adesso, vi faccio vedere una cosa. Io sono andato già con due viti RP a crearmi il filetto in questi due pezzi. E' importante perché altrimenti faticate parecchio quando poi dovrete metterli dove andiamo appunto a metterli adesso. Vedete? Però la difficoltà qual è? E' questa. Che se vi andate a creare il filetto, vi dico che è veramente molto duro da avvitare. dovete per forza tenerlo qui. Ma se non avete le dita forti da premere solo ed esclusivamente su questa parte più larga e non assolutamente qui, vi rimane in mano l'asola, perché questo vi gira, fate questo errore e spezzate l'anellino. Quindi attenzione, vedete voi come intervenire. Io faccio così. Ve l'ho fatto vedere. Ho avvitato fino alla fine entrambe le viti. Ecco qua. Poi prendo due viti MP. Sostituisco il cacciavite. Ecco qua. Vado a montarmi queste due parti insieme che sono identiche tra loro. Non vi potete sbagliare. Qui abbiamo il foro per la vite. Questo perno deve entrare qui. Andiamo a inserirlo dunque. Ecco. vite MP. Avvito. Arrivo fino in fondo e poi faccio mezzo giro indietro. Guardate le mie dita. basta. Se poi serve sviterò ancora un po'. Stesso lavoro di prima. scusatemi perché io sto guardando attraverso il telefonino. È difficilissimo lavorare così. Adesso mi sposto. Ecco. voilà. Questo l'abbiamo fatto. prendo il modello. prendo il modello. mi rimuovo le due viti RP. Una per ogni attacco. Sempre facendo attenzione a non rompere questo pezzo. L'anello. ok. Adesso. qui abbiamo questo foro. inseriamo questo. Aspettate perché per me è tutto complicato guardare. Non uscire dall'inquadratura. Vediamo se riesco così. Ecco. Proviamo. qui va bene chi ha le dita piccole. Con uno stuzzicadenti sicuramente lavorerete meglio. Inserite questo. E lo mettiamo così. Però attenzione perché poi una volta avvitato dovrà essere messo in verticale. Non così ma così. Però per avvitare adesso va bene qualsiasi posizione. Ecco. avete visto con che semplicità io adesso sto avvitando. Lavorate prima ma poi non fate alcuna fatica. Ecco qua. Adesso lo mettiamo in verticale. Vi faccio vedere. ovviamente. ovviamente quando andrete a metterlo in verticale allentatelo. Non fate il lavoro con l'attacco stretto altrimenti spaccate tutto. ecco. ecco. va drizzato ancora un po' e poi lo stringo. ok perfetto. faccio la stessa cosa dall'altra parte. alla fine rimanete con me che prendo tutto quello che ho montato fino a questo numero e poi ci salutiamo. ecco. 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 ecco qua. vi faccio vedere con l'ingrandimento. bene. adesso prendiamo gli sganci rapidi. ok. e guardate. prendiamo questo. vedete? qua abbiamo due tagli. mettiamo questo così con la leva rivolta verso il basso. abbiamo uno di qua e uno di qua. qui vanno attaccate le due cinture con la scritta Britax. ovviamente sotto andranno poi attaccate quelle inferiori ma si farà più avanti. quindi prendo la prima cintura molto facile e la vado a inserire qui. in realtà posso ancora stringere la vite. prendo la seconda cintura e la inserisco sempre verso la battuta superiore e la faccio scendere giù che dove c'è il perno. ecco qua. stringo. fino in fondo. perfetto. controllo che abbiano gioco ma che non escono ovviamente. guardate. ok. devono potersi muovere ma ovviamente non devono uscire. fatela questa prova. se non si muovono le avete inserite male le avete pizzicate e poi vi si sganciano. bene. faccio la stessa cosa dall'altra parte. eh ma ragazzi ma sono sono bellissime. sono bellissime. sempre più soddisfatto di questo modello. avete visto con il metodo tutto diventa più semplice. stessa cosa leva verso la parte inferiore e qui inseriamo le due cinture con la scritta britax. cominciamo con questa. qua devo allentare un po'. ovviamente quando la inserite controllate la direzione della scritta. ok. se non mi scappa adesso così andrebbe bene. vediamo se mi fa. se mi dà il tempo di stringerla. così. vedete questa infatti dovete farla questa prova. perché non aveva trovato il suo perno ma non ci sono mica problemi. ecco. adesso sì. è importante quella prova di cui parlavo prima. questa. una volta stretto questi devono potersi muovere. ovviamente senza uscire altrimenti va modificato qualcosa. bene. questi sono a posto. adesso possiamo anche regolarle. vede aspettate. possiamo anche regolarle anche se poi lo faremo dopo. quindi questa vedete è più lenta. io la vado a tirare un po'. guardate che Michele ha commesso un errore. guardate. avete visto? questo. ma non è un problema. perché si recupera subito. vi faccio vedere. vi faccio vedere. ricordate. vi ho detto. mi raccomando. ragazzi. la scritta Britax davanti. e io poi l'ho montata dietro. nessun problema. guardate. faccio così. ok. sfiro. giro. inserisco. ecco qua. ecco. così è precisa. bene. cosa c'è rimasto da fare? una cosa molto semplice. attaccare queste due come abbiamo fatto in precedenza con quelle con la scritta Britax. quando le abbiamo montate per la prima volta. quindi metto questo così ok con l'attacco dietro che non si veda prendo una di queste due anche qui metto la saldatura dietro della plastica perché questa è nylon e faccio così inserisco questa qua qua tiro tutto su e la faccio entrare qua in mezzo. tra questa qua rossa aspettate che ingrandisco volevo prendervi perché le istruzioni sono chiare però io voglio che arrivi a tutti ricordate lo stuzzicato. eccolo qua. non lo trovavo più. e l'altra la andiamo a inserire qui in mezzo e l'altra la andiamo a inserire qui in mezzo in mezzo in mezzo c'è un silenzio assoluto c'è un silenzio assoluto e anche il mio gatto mi angola Michelangelo starà dormendo ecco qui dopo solo due ore di lavoro ce l'abbiamo fatta ecco faccio la stessa cosa con l'altra scusatemi per le mani sono un po' rovinata dal lavoro non faccio solo questo ecco e adesso dobbiamo andare ad agganciare questi ai due ganci quelli con gli anelli che abbiamo avvitato poco fa però chi mi segue lo sa che io sono andato a scollarmi perché sono preciso che ci posso fare ragazzi sono pignolo questi due ganci allora nel senso che qua abbiamo il gancio che va di là guardate a voi è diverso perché purtroppo la Centauri l'ha fatti così ma questa è la posizione corretta il gancio va di là così come anche questo ma quegli altri dall'altra parte devono guardare questi vedete ecco perché l'avevo scollato un'altra volta e sono perfetti così quindi la stessa cosa forse dovrò fare per questo per uno di questi qua che metterò basso vediamo allora uno va attaccato così sto ragionando a voce alta eh da questa parte e uno va attaccato così da quest'altra no no questi vanno bene non devo scollarli perché tutte e due guardano verso la parte dietro ah no ecco vedete e no perché questo questo va attaccato là e si vede così da dentro con il gancio che gira di là questo invece va attaccato così con la parte bella però il gancio gira dalla parte da questa parte avanti invece no questo devo scollarlo e deve guardare come l'altro così tutte e due devono essere in là vedete e lo so sono un pignolo che ci devo fare quindi ne metto solo uno l'altro è inutile che la gancio perché poi dovrò sganciarlo per fare questa modifica andrò a scollare questo pezzo vi ho fatto vedere se volete farlo come farlo per non fare danno giro questo dall'altra parte questo qua cromato e lo metto corretto adesso vado inserimi questo e abbiamo finito aspettate che inquadro altrimenti non vedete niente comunque devo andare attaccare questo qua sono piccoli particolari ma fanno la differenza alla fine ecco qua adesso vi faccio vedere cosa intendevo non riesco a vedere se riesco a farvelo vedere a voi ecco ecco così è posizionato correttamente questo poi andrà montato su un piantone con una vite questa asola qua andrà avvitata qua sul piantone questo si sgancia o meglio no cosa sto dicendo questo andrà ad agganciarsi però se questo si va agganciare non va bene montata così e no perché questa poi va sul corpo e si aggancia all'aggancio rapido qua sotto un momento ragazzi e perché questo deve rimanere così poi sul corpo del pilota dalla parte bella vediamo un po' un attimo metto la pausa e leggo un attimo e si nelle istruzioni è spiegato bene sono io che ho ragionato dopo ma non ci sono problemi basta sganciarlo e lo aggancio al contrario non ci sono problemi niente di grave assolutamente nessun problema per sganciarlo mi devo aiutare con qualcosa questo stuzzicadenti dovrebbe andare molto bene vediamo ecco qua ecco questo intendevo guardate questa cintura poi andrà sulla gamba del pilota e quindi si deve vedere la parte bella questa come l'avevo attaccata io si sarebbe vista questa parte ok e questo gancio qui poi ci sarà vabbè non ci sarà se non vogliamo attaccarlo però in realtà se poi alla fine vogliamo metterlo bisognerà allentare di nuovo la vite mp per inserire questa qua e l'altra dall'altra parte ok questa è questa qua l'altra da quest'altra parte qui nelle parti che sono rimaste scoperte ovviamente qua sotto quindi 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 bisogna metterla così con la parte brutta verso l'abitacolo una volta agganciata la tirate su e dovrete avere la parte brutta verso di voi perché questa poi scende e si vede la parte bella ok quindi questo il gancio è corretto uno è così e l'altro è così perfetto questo è corretto questo poi dovrò scollarlo ok vado quindi inserirmi solo questo che il gancio guarda verso dietro così ecco qua adesso vi faccio vedere questo va giù ed è bellissimo così ok questo invece che va messo di là lo devo scollare aprire qui sfilare questo lo giro al contrario perché questo deve essere così con questa parte girata così per essere preciso come questo e lo so le aziende non è che fanno queste cose non vi mettete a fare questo lavoro io ho fatto un video straordinario dove vi faccio vedere i passaggi non è difficile ma se non avete un po' di manualità evitate di fare tutto perché rischiate di fare più danno di quello che invece poi andreste o vorreste magari sanare quindi mi raccomando lasciate così che non accorge nessuno non sono Michele non fateci caso Michele è un po' non dico matto perché alla fine è giusto così come vi sto dicendo io però ecco è un modellino tenetelo così bene adesso andiamo a metterci questo e poi ci salutiamo io sono soddisfattissimo anche di questo modello perfetto ok guardate lo sterzo con la modifica che ho fatto che meraviglia non fa rumore non si impunta in nessuna riga dei finti soffietti ho fatto anche qua il video straordinario per quello mi dovete guardare ragazzi perché poi se andate avanti veloci mi dispiace vi perdete magari delle cose che potrebbero esservi utili gruppo fari secondari copertura gruppo fari secondari telecomando questo non è l'accensione spegnimento questo è solo lo spegnimento l'accensione è questa delle luci una volta acceso tutto se schiacciate questo si spegne tutto accensione motore clacson fari primari gruppo fari secondari pedale dello stop la luce che è già accesa di quelle di posizione posteriore una volta che premette questo tasto diventa più intensa questa luce qua adesso non ve la posso far vedere perché ancora in questa fase di montaggio ci hanno fatto staccare i fili che andavano qui nei ricettori della scheda elettronica qui abbiamo l'altoparlante per riprodurre sia il suono del clacson che l'accensione del motore e l'inserimento di tutte le marce perché è meraviglioso sentitelo fino alla fine perché è meraviglioso e io ho fatto questo questo intervento per proteggere la membrana ve l'ho fatto vedere nel video come fare perché questo è un magnete tutto ciò che è metallico vi si attacca ok? però se vi si attacca così non succede nulla se vi si attacca quando avete la membrana scoperta si può danneggiare questo è l'interruttore accensione e spegnimento generale qui abbiamo il pacco batterie che va poi qui che altro è rimasto? penso che non ci sia più nulla è tutto qua e direi che c'è già abbastanza guardate che meraviglia ditemi voi lo stemma lancia guardate che dettagli che spettacolo cruscotto retroilluminato qui abbiamo l'estintore che avete visto posso girarlo anche al contrario non esce andate a vedervi quel piccolo intervento di modifica se avete piacere musetto anteriore un'opera d'arte un'opera d'arte guardate guardate soltanto la guaina che tiene uniti tutte e tre i fili che spettacolo che accortezza che dettagli qui poi ci sarà la ruota di scorta bene ragazzi io vi ringrazio del vostro tempo vi abbraccio un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari grazie veramente di cuore di continuare a dar vita e a contribuire a far crescere il canale mi raccomando sempre che ne abbiate piacere seguitemi e non mi lasciate solo eh ragazzi eh perché io ho il mio Michelangelo che mi fa compagnia il mio gattino meraviglioso però se ci siete anche voi che ogni tanto vedete il canale di Michele e dite ma si va diamoci una guardata senza saltare le pubblicità mi raccomando perché è cosa buona e giusta non saltare le pubblicità no non voglio essere blasfemo per carità però ecco vi ringrazio di tutto ragazzi ciao al prossimo video al prossimo video